Wow! Uh-ha! Il volo nella giungla! Bah! Scusami, cosa ci fate qua a festeggiare? Perché mi sa tanto di livello di volo questo? Ah, gli alberi, la tiepida prezza della sera. Sei proprio fortunato, sei due sei... Ah, madonna mia, guarda! Svelto, devi arrivare in tempo al prossimo anello! No, ti prego, no, no. Ti giuro... No, no, io ti giuro che lo salto sto livello. Me ne frega niente. No, ma scusami! Che cosa c'era scritto? Il razzo zaino! Ora sei due sei, può volare intorno al mondo! Quelle ali che ho dato a 583! Oh, oh, oh! Un errore madornale! Eh, ma come si usa? Eh, scusa, dimmelo prima, no? Allora, fermo. Ok, almeno abbiamo preso il checkpoint, dai. Guarda! Arrivato a questo punto... Io mi finisco il livello. Come va, va. Io, guarda, proseguo. Perché probabilmente questo livello è fatto per farti avanzare, ovviamente, a tempo. Però poi eventualmente te lo puoi anche rifare Cioè puoi Puoi tornare dopo con lo zainetto E riprenderti tutta la roba che hai lasciato indietro Hai abbastanza DNA per continuare se vuoi Eh, meno male, guarda Ci mancava solo i livelli di volo A tempo, tra l'altro, in sto gioco Come se non fosse Già abbastanza fastidioso Ecco qua Che poi ovviamente ti metto le cose a tempo E gli oggetti che puoi raccogliere in giro Ma ovviamente gli oggetti che raccogli in giro Non puoi fare tutto in una botta sola Devi ovviamente rifartelo Non sia mai Che ti facciano fare Tutte le robe in una volta sola Giusto? Spero di essere arrivato Ah Letteralmente siamo arrivati Ah Ammetto che pensavo di averne saltato uno Però almeno sappiamo che siamo arrivati alla fine Scusami, dov'era allora? Scusa Ma io Non ne ho visti più di anelli Dove cavolo doveva essere? Eh vabbè È un livello così Da tre minuti Come faccio a ricaricarlo Lo zainetto? Ah non puoi neanche ricaricarlo Quindi te lo devi fare tutto in una botta sola letteralmente? Scusami Allora Se io muoio Poi non ho più il limite del tempo Giusto? Perché non ho più preso gli anelli Però non ho neanche modo di ricaricare Ah E invece sì Se faccio Tutto a reverse E vado ogni volta a prendermi L'anello In mezzo Posso ritornare indietro Certo non ne vale per nulla la pena Eh vabbè Finiamo il livello così Quanti ne ho mancati? Madonna mia 20 E sette cose di video Ma come avrei dovuto farlo? Ma scusami Ma te sei pazzo Ma te sei pazzo